Buongiorno, notizie inquietanti ci arrivano dai più stimati geologi mondiali. Il prossimo anno potrebbe essere contrassegnato da grandi eventi sismici. Lo rivela uno studio i cui risultati sono stati presentati durante l'annuale incontro della Geological Society of America tenutosi a Seattle. Le previsioni sottolineano come il sisma del secolo deve ancora arrivare e che avrà sicuramente una magnitudo superiore a 9. Lo studio sottolinea come i rallentamenti della Terra coincidono con un aumento globale del numero di terremoti. Sono rallentamenti che noi non percepiamo, ma potrebbero causare dei terremoti. Inoltre, proprio perché questi rallentamenti sono oggetto di studio, potrebbero dare la possibilità di prevedere un evento sismico. James Dolan, geologo presso l'Università della California del Sud a Los Angeles, sostiene che il prossimo grande evento si avrà presto, perché già da 4 anni a questa parte la Terra ha iniziato un rallentamento della sua rotazione. Teleronpo, suggerisce di mantenere la calma apparente e di fuggire a gambe levate alla prima disagia di pericolo. Arrivederci a presto. Ciao. 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 Anche io meto mi piace sui video di telecompo. Ulla.